Ma cosa succedeva in Europa da cui appunto si era generata questa tradizione poi diciamo presa in carico da Hollywood? Beh, consideriamo due casi emblematici, ce ne potrebbero essere tanti altri, la Francia e l'Italia. Allora, in Francia è evidente per esempio che al momento del passaggio al sonoro i musicisti, chiamiamoli così, impegnati, Oric, Oneger, Jobert, Millot, Ibert, tutti i musicisti che scrivevano per la sala da concerto, spesso e a volte volentieri, a volte meno, si prestavano al cinema. Quindi troviamo a volte in Europa una musica che non è per forza la musica della tradizione classica. I compositori che andavano a Hollywood si basavano su degli studi che avevano una profondità storica. Wagner era già a fine ottocento, eravamo insomma verso la metà del novecento, erano passati un po' di decenni. Qui invece abbiamo a che fare con una musica viva, una musica del presente, quindi compositori che stavano facendo la storia della musica in quel momento e che in prima persona scrivono per il cinema, portando a volte le loro ricerche. Quindi sentiamo una musica più complessa anche certe volte rispetto allo standard di Hollywood. Qui adesso non voglio fare una questione di gerarchie, di valore, cioè di dire Hollywood allora è più triviale, più commerciale, invece in Europa c'è il film d'arte. Non è sempre così, anzi, anzi, in Francia spesso e volentieri questa ricerca artistica si contaminava con la lunghissima tradizione popolare della chanson, quindi con il canto che avveniva all'interno dei cabaret, dei locali, con una tradizione ottocentesca, molto fiorente, però una tradizione popolare, insomma sostanzialmente, che viveva all'interno del cinema. Riviveva quindi anche, per esempio, in Jobert, però a volte contaminata con queste ricerche sperimentali. Per esempio, un esempio, Jobert, che ho citato, lavora con un cineasta, ahimè scomparso troppo presto, Jean Vigo. Jean Vigo, negli anni 30, per esempio, realizza questo film emblematico Zero Incondotta, e in Zero Incondotta c'è la scena di una rivolta in un dormitorio. Allora, questa scena noi sentiamo una musica, appunto, di Jobert, che sulla carta avrebbe un organico abbastanza classico, sebbene curioso. Quindi c'è una voce femminile che fa dei vocalizzi, c'è un flauto, c'è un armonium, c'è un violoncello pizzicato, con le corde pizzicate. Ecco, però se noi ascoltiamo la musica ci sembra tutto molto strano. Non riusciamo a riconoscere gli strumenti. Come mai? Perché Jobert, appunto, riproduce la registrazione della musica al contrario. E quindi sentiamo tutti i suoni alieni, invertiti, perché tutti, diciamo, le conclusioni dei suoni sono in realtà i loro inizi, in questa registrazione al contrario, e quindi non riconosciamo il timbro, perché non sembrerebbe, ma per riconoscere il timbro di uno strumento musicale noi abbiamo bisogno anche di un orientamento temporale, perché ci sono dei modi in cui gli strumenti attaccano e concludono i suoni. Per esempio il pianoforte, se voi premete un tasto, il suono incomincia all'improvviso, il cosiddetto transitorio di attacco è molto breve nel pianoforte, e quindi abbiamo un colpo iniziale e poi un suono che si spegne piano piano. Se voi lo invertite, cosa sentite? Un suono che emerge dal nulla piano piano, che cresce e poi tac, improvvisamente si interrompe. E noi non riconosciamo più il pianoforte, cioè ci basta questo per perdere completamente le coordinate. Joubert questo lo sapeva benissimo già nel 1933, e quindi in zero incondotta fa questa atmosfera sospesa, onirica, alla fine della scena del dormitorio, che si conclude, vedete, in questa maniera un po', anche con un ralenti, ebbene, e contribuisce, vedete, manipolando il suono con qualcosa che va oltre il semplice eseguire e registrare, ma comincia a lavorare proprio sull'aspetto tecnologico del sonoro al cinema, quindi la possibilità, no, di manipolare, invertire. E questo ci dà già il polso, no, della maniera in cui in Europa si andava oltre il semplice mettere in scena e creare questo realismo, che poi in realtà, come dicevo, realismo non è, perché il cinema è tutta un'illusione, è tutta una serie di convenzioni. Se poi facciamo un bel salto e arriviamo alla famosissima Nouvelle Vague, noi troviamo, per esempio, la produzione di Georges Delerieux con un regista come François Truffaut. Allora, noi possiamo, per esempio, accorgerci che il lavoro sul leitmotiv c'è, anche in, per esempio, in Jules Gim, film celeberrimo di Truffaut, dove però sentiamo il tema che viene associato alle varie situazioni, che non è più semplicemente un segnale, quindi per dire c'è il personaggio in scena, il personaggio è triste, il personaggio è allegro, ma è qualcosa che si sposa invece all'architettura complessiva del film, cioè i temi hanno un loro sviluppo che ci racconta anche l'arco narrativo dell'intera pellicola e non soltanto una circostanza, una contingenza. Per esempio, possiamo vedere come il tema, possiamo chiamarlo così, dell'amore spensierato dei protagonisti, che dà questa idea ciclica che è basato soltanto, basato soprattutto sulla ripetizione di due note, ritorna più volte nel film e mano a mano che la storia prende quella piega tragica di cui sappiamo, il tema si spoglia, diciamo, degli strumenti, diventa sempre più essenziale, viene girato al minore, quindi diventa più introspettivo, più riflessivo e alla fine scompare completamente, cioè diventa un qualcosa che si... è una specie di dissolvenza musicale che va dall'inizio alla fine di questo film. Oppure prendiamo un altro film di un altro regista dirompente come Jean-Luc Godard, Il Disprezzo, 1963. C'è una scena ambientata all'interno proprio di un cinema, dove però si svolge uno spettacolo. Ebbene, a proposito di asincronismo, insomma, cosa succede? Che noi vediamo una cantante che si esibisce e mentre canta noi sentiamo il sonoro ambientale della sala, dove c'è il rumore del pubblico, ma c'è soprattutto il canto. Poi improvvisamente c'è un dialogo tra i personaggi che si parlano seduti in platea. E che fa Godard? Interrompe completamente la canzone, che in realtà dovrebbe continuare in sottofondo, no? E sentiamo solo i dialoghi. Che cosa è questo? Ma questo è proprio un mettere in primo piano l'artificio del sonoro al cinema. Perché lui e Godard sa benissimo che c'è questo vococentrismo di cui parlerà Shion, chiaramente non lo chiamava così Godard nel 63, ma se ne rendeva conto. E quindi diceva io so benissimo che al cinema sonoro, quando c'è una voce, la voce è in primo piano. E allora diamoglielo questo primo piano. Un primo piano assoluto. Cancelliamo tutto quello che c'è intorno e facciamo sentire soltanto le voci. Perché? Ma perché in questo modo, appunto, si fa sentire la presenza di un autore. Sapete che la Nouvelle Vague era anche il contesto di quella famosa politica degli autori. Cioè un cinema che recupera la possibilità di firmare da parte di un cineasta lo stile di un film. A Hollywood si riteneva che questa politica invece non ci fosse sommersa com'era dietro a un'industria che appunto cancellava quasi il regista. L'emblema di tutto questo è per esempio Michael Curtiz, il regista di Casablanca, no? Che ha realizzato più di 160 film nella sua carriera, spaziando da un genere all'altro. Faceva mille film diversi. Poi in realtà, se andiamo a ben vedere, c'è un tratto comune fra tutti. Poi nel contesto di Hollywood, per esempio, la stessa Nouvelle Vague, Truffaut per esempio, recupera Hitchcock e scopre che c'è un autore anche dietro a questo regista così apparentemente hollywoodiano. Ma in Europa invece la consapevolezza era molto più profonda e succedevano anche con il sonoro queste cose. E se invece andiamo in Italia, anche qui qualche piccolo esempio qua e là per capire la libertà maggiore che c'era in Europa, beh, se abbiamo avuto la Nouvelle Vague in Francia, in Italia, prima della Nouvelle Vague abbiamo avuto il grande momento, la grande stagione del neorealismo. Il neorealismo in Italia, anche lì le coordinate sono varie, alcuni dicono che il neorealismo ha vissuto solo cinque anni, dal 45 al 50, poi in realtà alcuni espandono di più, parlano di neorealismo rosa, ma appunto anche lì le cose possono essere dibattute. Comunque in questa stagione che sicuramente si apre alla fine della seconda guerra mondiale, che musica c'era? Ma c'era una musica che di fatto era il contrario del cinema neorealista, cioè una musica che secondo alcuni è stata un po' un'occasione sprecata, nel senso che si tendeva a utilizzare dei cliché, delle formule sentimentali di fronte a un cinema che invece andava proprio contro la finzione sentimentale, melodrammatica, cercando di restituire in alcuni casi una visione, una narrazione che per quanto fittizia però desse testimonianza, desse conto delle tragiche condizioni in cui versava appunto l'Italia dopo la fine della seconda guerra mondiale. Esempio, ladri di biciclette, Alessandro Cicognini. Alessandro Cicognini è il compositore che scrive appunto per questo film di De Sica e che cosa fa? Crea appunto un commento sonoro molto attento, molto calibrato sull'immagine, che però tende a raddoppiare quello che già è evidente. Per esempio vediamo il finale del film, finale in cui sostanzialmente il figlio si fa padre, no? Il ragazzino che di fronte alla disfatta esistenziale del padre lo prende per mano e di fatto sembra consolarlo. E noi sentiamo questa musica lirica che deve molto alla tradizione melodica, no? Dell'opera lirica italiana, lirica nel senso appunto di cantabile, che però ci dà l'idea di questo patos soffocante. E questo che voglio dire non è una nota semplicemente critica negativa, che non sto facendo io in realtà, dipende appunto dalla lettura che è stata data da molti di questa musica per il neorealismo, ma per dire che a volte, in certi casi, il percorso dell'estetica del cinema prendeva delle vie che non sempre erano parallele a quelle della musica. A volte succedeva che il musicista non sapesse bene come fare di fronte a delle grandi innovazioni del linguaggio cinematografico e quindi a volte si sentivano delle divergenze. Poi per carità un film come Ladri di biciclette funziona perfettamente, quindi alla fine è diventato anche una... ha creato una tradizione a suo modo. Però se andiamo bene a pensarci rispetto a quello che stava succedendo al tempo, ci rendiamo conto di uno sfasamento, di uno scarto estetico tra appunto le immagini, il racconto cinematografico e il racconto della musica. Invece dove c'è totale identità e integrazione fra cinema e musica, beh, è senz'altro nell'esperienza di Nino Rota con Federico Fellini. Lì abbiamo un lavoro che veramente ha quattro mani, cioè il regista e il compositore, a partire distribuiscono un percorso che si conferma di pellicola in pellicola. E che percorso è? Nino Rota è un musicista classico, è addirittura direttore di conservatorio, quindi qualcuno che ha ben nota la storia della musica. Per il cinema di Fellini la mette da parte. La mette da parte e recupera appunto il popolare, il circo, recupera il valver, recupera insomma tutte danze, appunto maniere melodiche che sono spontanee e istintive, che servono a sposarsi con lo stile onirico e autobiografico di Fellini, che ricorda appunto la propria infanzia, la propria giovinezza, il proprio vissuto sulla base della realtà d'Italia. E quindi, per esempio, se noi guardiamo un film come lo sceicco bianco e lo confrontiamo con il famoso valver della dolce vita, noi sentiamo che ci sono delle similitudini che derivano dalla musica per il circo. C'è una musica per il circo, una marcetta, no? Che è famosissima, l'entrata dei gladiatori di Fuji. Viene citata direttamente nello sceicco bianco da Rota, che è la dolce vita, è come rallentata, trasfigurata, resa malinconica in questo valver, che ci dice come tutto sommato quel mondo sia sempre presente, il circo all'interno del... che è un mondo però, è un circo sognato, desiderato e appunto sognato anche attraverso la musica. Che quella marcetta lì la prende, la riarrangia, la trasforma e guardate che questa non è un'operazione banale per niente. Perché il principio di variazione è il fondamento della musica occidentale. Cioè se voi guardate la storia della musica dal medioevo fino ai giorni nostri, vedete che al di là dei grandissimi cambiamenti di estetica e di maniere, c'è una base che abbiamo che è quella di variare, prendere un tema e trasformarlo. Una delle forme musicali, forme e generi musicali più elevati di tutta la nostra tradizione occidentale è il tema e variazioni. Nel cinema questo viene applicato sia nel leitmotiv, ma poi da rota in questo leitmotiv trasversale che attraversa tutta la produzione di Fellini, se vogliamo, e che quindi ci dà misura di un grande compositore classico, chiamiamolo così, rota, che però compone in questa maniera popolaresca, ma lo fa con delle tecniche raffinatissime, di cui noi non ci accorgiamo. E tutto si sposa alla perfezione proprio con Fellini e il suo linguaggio. Ma se dobbiamo parlare di un compositore che in Italia ha una collaborazione straordinaria con un regista, anzi con più di uno, e che unisce la dimensione popolare comunicativa con quella più di ricerca, più accademica, dobbiamo parlare senz'altro di Ennio Morricone e delle sue collaborazioni con Sergio Leone e poi con Giuseppe Tornatore, che hanno lasciato il segno nel cinema italiano e mondiale. Pensiamo all'utilizzo che fa Morricone di suoni non musicali nelle sue partiture. Sono famosissimi, no? Il fischio di Per un pugno di dollari, ma poi anche la frusta e le voci che dicono Sean e Juan in giù la testa. Insomma, tutti suoni che non centrerebbero nulla con una tradizione accademica di scrittura per l'orchestra e che invece Morricone utilizza poi nel contesto di tendenze musicali che c'erano effettivamente in Italia, in Europa in quegli anni. Lui faceva parte del gruppo Nuova Consonanza e quindi anche qui troviamo sposata la musica viva che fa la storia della musica in quegli anni con invece la pratica, la musica applicata al cinema. Ma la cosa bella è che quando lavora con Leone questi suoni così fisici, così tangibili che Morricone utilizza nelle partiture hanno un senso ai fini della storia, contribuiscono a coinvolgerci. Pensiamo un esempio da un film come C'era una volta il West. Nel 1968 noi sappiamo che c'è questo suono dell'armonica, c'è anche il personaggio che si chiama armonica, no? Per tutto il film. C'è questo tema che in realtà è proprio un tema semplicissimo. Sono tre note, sono tre note anche un po' stonate, un po' calanti, che vengono ripetute in un ciclo continuo e fanno le veci di un leitmotiv a tutti gli effetti. Però la cosa bella è che alla fine c'è un colpo di scena che ci spiega del perché sentiamo queste tre note per tutto il film? Perché ci parlano di un evento che è avvenuto nel passato e che ha motivato le azioni di armonica, no? Questo terribile momento in cui un personaggio viene giustiziato e in cui viene messa a forza nella sua bocca questa armonica e il personaggio con questi suoi ultimi rantoli di vita soffia nello strumento e produce casualmente quelle tre note che poi diventano le tre note che noi abbiamo sentito fino a quel momento del film. Quindi ci ha anticipato proprio il colpo di scena finale senza dircelo lungo tutta la colonna sonora del film stesso e questo è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare. Pensiamo anche al momento per qualche dollaro in più alla fine quando c'è lo scontro finale con il carry on che fa partire la musica. Abbiamo detto all'inizio di questo nostro dialogo, questo nostro incontro, come esistono dei livelli di musica diegetica ed extra diegetica, no? Quindi sentiamo la musica che appartiene al mondo del film e quella esterna. Ebbene, Morricone in quel duello così emotivo che anche lì la musica fa nascere tanti ricordi nei personaggi e dunque anche nello spettatore, sentiamo il carry on e il carry on è diegetico perché lo vediamo proprio di fronte a noi, sentiamo che dall'orologio esce questa musica e poi piano piano al carry on si sostituisce l'orchestra che riprende lo stesso tema e lo fa diventare colossale, potente e lì perché? Perché stiamo immergendoci nella concentrazione dei personaggi e come ci immergiamo? Tramite lo stile di Sergio Leone. Sapete benissimo che Leone aveva proprio una sua firma che era quella del dettaglio sugli occhi, no? Dei personaggi o comunque il primissimo piano, quello che Quentin Tarantino oggi stesso chiama Leone, quell'inquadratura, quando la vuole nei suoi film dice al direttore della fotografia, give me a Leone, cioè dammi un primissimo piano oppure un dettaglio stretto, no? Sugli occhi. E noi lo vediamo proprio in questa sequenza che andiamo con la scala dei piani a stringere, 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 finché non ci troviamo proprio con la massima concentrazione ed è lì che Morricone fa fiorire proprio quel tema diegetico, lo fa diventare extra diegetico perché chiaramente non c'è un'orchestra lì accanto ai personaggi e poi piano piano la tensione sfuma e torniamo a sentire solo il carillon che tra l'altro si ferma ed è il segnale che deve cominciare la sparatoria perché appunto c'è la frase emblematica quando finisce la musica spara se riesci, se ne sei capace, più o meno era questa la citazione. Quindi vediamo come l'intreccio fra musica e immagini possa essere veramente portato a livelli di raffinatezza, di complessità altissimi e soprattutto con una grandissima varietà di esiti. Non c'è solo Hollywood e non ci sono nemmeno solo l'asincronismo di Eisenstein e le ricerche europee, ma un panorama veramente complesso e intrigante che ancora oggi continua a dare i suoi frutti. Grazie a tutti.